La provincia sarà la prima a chiedere il rispetto di tutte le condizioni fissate dal piano interprovinciale dei rifiuti. Sono le parole dell'assessore provinciale all'ambiente Rino Fragai in risposta alla questione relativa al piano interprovinciale dei rifiuti e all'inceneritore di Montale. Per quanto riguarda gli aspetti gestionali di Fragai relativi all'impianto, ai rapporti con l'Ato Toscana Centro e con l'eventuale futuro gestore unico del servizio raccolta smaltimento rifiuti sollevati dal comune di Montale e dai rappresentanti del PDL, si tratta di un tema che non rientra nelle competenze della provincia e per il quale i comuni valuteranno in autonomia le possibili soluzioni. L'assessore precisa poi alcuni aspetti relativi al piano interprovinciale dei rifiuti. In primo luogo, il piano prevede una modulazione impiantistica corrispondente ai risultati di un'attenta opera di monitoraggio e di controllo da parte dell'osservatorio interprovinciale sulla produzione dei rifiuti. Quindi, spiega l'assessore, il potenziamento dell'impianto di Montale può avvenire solo in presenza di una quantificazione di rifiuti, tale da giustificarne la necessità. In secondo luogo, l'eventuale conferma del potenziamento dell'impianto non può prescindere dall'esito delle indagini epidemiologiche condotte dalle autorità sanitarie competenti, le cui conclusioni sono attese a dicembre 2014. Infine, la realizzazione dell'impianto di case Passerini è e rimane comunque un presupposto imprescindibile per l'ampiamento dell'inceneritore di Montale. Quindi, conclude Fragai, se non si procedesse alla costruzione del primo, sarebbe necessario mettere in discussione il piano nella sua interezza. Qualora, conclude l'assessore, non dovessero verificarsi tutti i presupposti elencati, la provincia di Pistoia sarà la prima ad esprimere la più ferma e netta contrarietà all'ampiamento dell'impianto, a garanzia nel rispetto degli accordi intervenuti e del percorso di confronto politico-istituzionale affrontato. Grazie a tutti.